video lezione su john locke fondatore del liberalismo classico pensatore inglese del diciassettesimo secolo il video sarà sul sul secondo trattato sul governo locke scrive quest'opera nel 1690 anno di pubblicazione di quell'altro grande trattato che il saggio sull'intelletto umano e scrive due trattati sul governo noi ci occuperemo del secondo perché il secondo è perché quello più ricco e anche quello dove locke espone le proprietessi in materia politica e quindi sul liberalismo ma chi è joe locke joe locke dicevamo è il padre fondatore del liberalismo il padre nobile del liberalismo ed è un pensatore importante da diversi punti di vista non è solo un grande filosofo della politica come vedremo nel video leggendo dentro il testo come facciamo sempre con intus leggere in questo caso il secondo trattato sul governo sarà l'oggetto della lettura ma è stato anche un grande pensatore dal punto di vista della teoria della conoscenza locke scrive nel 1690 il trattato il saggio il saggio sull'intelletto umano human understanding lo definisce lo definisce locke l'intendimento umano la comprensione umana questo è uno dei manifesti dell'empirismo filosofia alla quale appartiene locke un empirista insieme a davidium e a george berkeley costituisce la triade dell'empirismo inglese la sua una filosofia che ha avuto molta fortuna e che ha avuto grande soprattutto grande risalto nel nel settecento nel secolo che si si apre praticamente con la morte di locke perché locke morne nel 1704 al punto che un grande pensatore che di che con intus leggere conosciamo bene cioè emmanuel kant dirà che locke è stato il primo ad aver cercato con la sua opera di di indagare la natura umana e le operazioni della mente che cosa l'uomo può conoscere cosa invece l'uomo non è in grado di fare attraverso il proprio intelletto e le operazioni di questo ecco per locke e in generale per gli empiristi all'occhio uno di questi la tesi di fondo è che la conoscenza sia sempre solo con l'esperienza non esiste alcuna conoscenza al di fuori dell'esperienza ciò che io posso conoscere sempre determinato dall'esperienza io prendo questo libro che questo libro è il secondo il trattato sul governo qui a cura di via formigari questo caso è il secondo trattato sul governo ma come faccio a sapere che questo libro esiste ma perché posso fare un'esperienza perché me lo dico nei sensi ma potrei capire qual è l'essenza del libro ma qui la domanda si fa una domanda evidentemente metafisica sulla natura del testo sulla natura di un libro ecco qui locke ci dice una cosa andare oltre l'esperienza lo che spiega questo dicendo che in realtà queste queste sono sono operazioni sostanziali l'uomo non conosce cosa sono la sostanza dio e tuttavia noi questi termini dio e sostanza per esempio ce li abbiamo in mente dunque com'è possibile che derivino da una mente che non può andare oltre l'esperienza locke spiega questo dicendo che in realtà queste queste sono sono operazioni sostanzialmente psicologiche cioè sono operazioni sono concetti che la più di operazioni sono concetti che sono sì nella mente ma che non hanno nessun correlato oggettivo cioè non si riferiscono all'esperienza perché nessuno può fare esperienza della sostanza esperienza di dio in tal senso tutto ciò che si presuppone come universale sul terreno della metafisica è destinato a svanire in forza di questo empirismo ma non entriamo tuttavia nel dettaglio della questione dell'empirismo perché non è quella che ci interessa mentre invece diciamo subito che il secondo trattato sul governo è un vero e proprio manifesto del del liberalismo ma locke va anche contestualizzato rispetto al proprio periodo storico quello inglese quello della seconda metà del seicento inglese beh l'inghilterra in quell'epoca era un inghilterra scossa da molti molti problemi interni dal punto di vista politico era una società certamente in grande evoluzione e c'era una nuova classe sociale che era fortemente in ascesa si tratta della cosiddetta gentry cioè la gentry cos'è è la nobiltà la nuova nobiltà contrapposta a quella di toga e di spada la nobiltà che è stata in grado di fare i soldi è diventata così a tutti gli effetti la nuova aristocrazia una società dinamica quella inglese di lunga tradizione di lunga tradizione politica di lunga tradizione per così dire democratica e dai tempi del medioevo che gli inglesi partecipano alla vita politica e pretendono una larga partecipazione nel 1600 l'inghilterra conosce una dinastia che è quella di stuart gli stuart sono rappresentano con carlo secondo carlo primo e giacomo poi secondo rappresentano una dinastia filo cattolica che fa l'interesse del cattolicesimo contro l'anglicanesimo e una dinastia di regnanti assolutisti per questo motivo e anche per motivi fiscali e di tassazione essi si mettono contro la gentry ed è a quel punto che la gentry e i cosiddetti wigs diventano parlamentaristi cioè sostengono la tesi di un parlamento e di un istituzione parlamentare come assolutamente centrale e in opposizione alla monarchia si pensa quindi a una monarchia parlamentare laddove il re sia sottoposto al giudizio del parlamento e sottoposto al ruolo centrale del parlamento questi sono questa è la posizione dei wigs contrapposta ai tori che sono invece i tories sono l'ala conservatrice del del mondo inglese del seicento qui sarà una vera e propria guerra civile in inghilterra protagonista il protagonista che emerge è certamente oliver cromwell che il paladino dei parlamentaristi naturalmente john locke e il nostro locke è un wigs e anzi il suo sarà il manifesto del liberalismo come si diceva questo sarà il primo grande documento liberale della storia in cui verranno poste le basi del liberalismo i diritti fondamentali la l'aspirazione alla libertà la personalità dell'individuo dal punto di vista politico ecco quindi tutti questi motivi legati anche alla contestualizzazione storica ci danno la cifra di quello che john locke un pensatore straordinario importantissimo come filosofo della politica e non solo perché però noi andremo ad analizzare leggendo nel testo in questo caso nel secondo trattato sul governo dunque locke è stato protagonista si diceva della vita politica e sociale dell'inghilterra e il suo trattato non a caso esce tra il 1688 e 1689 ed il secondo trattato sul governo che è esattamente il periodo della cosiddetta gloriosa rivoluzione glorious revolution dei d'inglesi cioè quella rivoluzione gloriosa in cui l'esperienza parlamentare del parlamentarismo inglese trova appunto il modo di rovesciare la monarchia assolutistica che era che aveva gettato il paese nel conflitto nell'inghilterra e diventa un po il manifesto di questa di questa ideologia di questo ideale liberale anzi ecco da questo punto di vista l'opera di locke anche questa va contestualizzata e va detto qualcosa preliminarmente prima di leggere come sempre facciamo nel testo leggere dentro intus leggere attraverso le citazioni per capire quali sono le quali sono gli argomenti di quest'opera l'opera è un'opera che appartiene al al contrattualismo moderno cos'è il contrattualismo ma il contrattualismo e quella filosofia politica di matrice moderna abbiamo visto con rousseau l'abbiamo visto per certi versi anche con cante si potrebbe dire l'abbiamo visto anzi lo vedremo con locke e questo contrattualismo è anche presente in thomas hobbs sono tutti pensatori questi contrattualisti o comunque che sono vicini al contrattualismo ma esattamente che cosa vuol dire contrattualismo il contrattualismo quella filosofia politica che pensa che l'uomo si associ e che diventi comunità politica sulla base di un patto di un contratto perciò contrattualismo l'uomo è immerso sia in hobbs che in locke in uno stato di natura nasce ovviamente in una condizione prepolitica nessuno di noi nasce fino a prova contraria già all'interno di uno stato o meglio noi nasciamo all'interno di uno stadio sono un cittadino italiano appartengo a una delle istituzioni appartengono a regione un comune sono iscritto un ufficio anagrafe e così via ma questo perché ebbe perché la comunità politica ormai sorta ormai da millenni praticamente ma se noi immaginiamo gli uomini in una condizione della storia che una condizione ideale nella quale evidentemente sobs che locke trovano difficile dire quando esattamente ci sia stata è più un ideal tipo una condizione ideale un ideal tipo si direbbe appunto in filosofia che però ha delle evidentemente a delle delle strutture che possono essere indagate razionalmente questa condizione nella quale l'uomo non ha nessuna istituzione non è in nessuna forma politica e sociale viene chiamata stato di natura è uno stato di natura perché l'uomo l'uomo si trova immerso in una condizione naturale non ci sono partiti non c'è parlamento non c'è stato non c'è nulla di tutto questo non ci sono istituzioni c'è l'uomo libero con la sua libertà e vedremo che ci sono delle enormi differenze tra locke e hobs per esempio però entrambi come come contrattualisti convergono su un punto l'uomo decide di passare dalla soledà lo stato di natura una società politica e questo è inevitabile è un aspetto utile conveniente anzi si potrebbe dire necessario per l'uomo come si capisce quindi la il contrattualismo una filosofia politica assolutamente centrale nell'età moderna importantissima quella che ha dato poi il là l'avvio proprio con john locke che stiamo vedendo al liberalismo naturalmente il liberalismo ha subito un'evoluzione non siamo fermi all'ocke oggi il liberalismo rispetto ai tempi di locke è molto cambiato però noi possiamo dire che i presupposti i fondamenti teorici a cui si ispirano tutti i liberali sono nel secondo trattato sul governo quindi è a quest'opera che noi dobbiamo rivolgerci se vogliamo capire le ragioni dei liberali e gli argomenti e la bontà del liberalismo che è una filosofia politica fondamentale e che in un certo senso non può essere non può essere misconosciuta e si deve dire necessariamente che in una certa misura siamo un po tutti liberali adesso vedremo perché faccio questa provocazione dicendo che siamo tutti liberali lo vedremo come sempre leggendo nel testo nel 1653 sir robert filmer morendo lascia ai posteri un'opera che il patriarca qui robert filmer sir robert filmer sostiene l'argomento fondamentale a favore della monarchia filmer è un filo monarchico sfegatato potremmo potremmo dire e lo è sulla base di un argomento appunto è quello del patriarca sostanzialmente l'ordine naturale voluto da dio secondo filmer è un ordine fondato sulla monarchia questo perché riflette quello stesso quella quella matrice originaria che secondo filmer sta addirittura nel progenitore di tutti noi secondo la religione cristiana cioè in adamo a partire da adamo dal primo uomo c'è una un meccanismo è una filiazione tale per cui tutti i re e coloro che sono i monarchi che governano i diversi stati e le diverse nazioni sono legittimati da dio e della natura ad essere discendenti di adamo e quindi ri esercitare il proprio dominio la propria sovranità sulla terra quindi con argomenti religiosi ma al tempo stesso desunti dal diritto naturale filmer sostiene che l'ordine delle cose l'ordine della natura l'ordine voluto da dio un ordine monarchico che l'uomo in alternativa sarebbe creatura abbandonata a se stessa creatura in preda all'anarchia creatura che non sarebbe in grado di governarsi e di poter essere governata quindi l'opera di di locke che un'opera come si diceva scritta tra il 1689 e il 1690 è un'opera che risponde al patriarca di filmer e che rovescia questa è questa tesi essa si divide in due trattati abbiamo parlato di secondo di secondo trattato sul governo di quello che analizzeremo infatti il primo è una risposta a filmer è una ripresa di quegli argomenti smentiti da una serie di osservazioni che locke fa e di contrapunti noi però non vedremo questo questo non sarà questo l'oggetto del del nostro video di oggi ma sarà appunto il secondo trattato sul governo che è la parte della proposta politica diciamo così liberale quindi di john locke locke quindi parte con l'esposizione del suo stato di natura dobbiamo capire anzitutto e dobbiamo partire necessariamente dallo stato di natura che è la prima condizione in cui si trovano gli esseri umani qual è lo stato di natura che cosa avviene nello stato di natura in che condizioni l'uomo è nello stato di natura cosa può e cosa non può sentiamo che cosa dice locke per ben comprendere che cosa sia il potere politico per ricostruire nella genesi occorre considerare quale sia lo stato in cui tutti gli uomini per natura si trovano uno stato di perfetta libertà di regolare le proprie azioni e disporre dei propri beni e persone come meglio credono entro i limiti della legge naturale senza chiedere l'altrui benestare obbedire alla volontà d'altri e questo anche uno stato di eguaglianza in cui poteri e autorità sono reciproci perché nessuno ne ha più di altri nulla in vero è più evidente del fatto che creature della stessa specie e grado debbano essere fra loro uguali senza alcuna subordinazione o soggezione se il signore padrone di esse tutte non ha manifestamente dichiarato la sua volontà di preporne una alle altre conferendole con un evidente e chiara disegnazione un indubbio diritto al dominio e alla sovranità la condizione dello stato di natura è una condizione di eguaglianza naturale nella quale tutti gli uomini sono sono identici perché ma perché non vi ha ancora la divisione in classi evidentemente quindi tutti hanno pari forza e hanno pari diritto e soprattutto non c'è nessuno che possa dominare sugli altri perché questo proprio in forza dell'eguaglianza naturale se siamo tutti uguali dal punto di vista naturale non si capisce perché qualcuno dovrebbe dominare su qualcun altro evidentemente questo non mette a differenza che in hobbs prima differenza fondamentale con thomas hobbs questa condizione di libertà fondamentale non mette l'uomo contro l'altro uomo era per hobbs valeva principio dell'uomo omini lupus l'uomo e lupo per l'altro uomo è tendenzialmente quello dello stato di di hobbs è sostanzialmente uno stato di guerra nello stato di natura di locke invece lo stato di natura è uno stato in cui sono presente anche una legge di natura ci dice locke questa legge di natura è una legge della ragione una legge razionale che ci rende liberi e che fa della nostra libertà e della nostra possibilità di appropriarci degli oggetti lavorandoli e attraverso il lavoro per esempio un diritto fondamentale e appunto innato si potrebbe dire in questo senso locke è certamente un gius naturalista cioè ritiene che vi sia un diritto naturale una legge naturale e questo naturalmente è il principio tipico del gius naturalismo contrapposto al cosiddetto gius positivismo il diritto naturale il gius naturalismo sostiene che ci siano delle leggi che non derivano da un da un qualche documento scritto non c'è un imperatore un papa un soprano che deve dirmi che io sono libero io sono libero dalla nascita e la mia libertà è una condizione irrinunciabile così come una condizione irrinunciabile per locke per i liberali la proprietà privata che un'altra un altro diritto naturale oltre a quello della libertà e naturalmente insieme a quello della vita la salvaguardia della propria vita che il fondamento di tutti di tutti gli altri quindi se è vero che c'è una legge naturale e razionale questa legge vale per tutti gli uomini proprio perché siamo stati creati tutti uguali in questo senso quindi ecco che lo stato di locke non è uno stato di guerra lo stato di natura di locke come invece era era per thomas hobbes per quanto sia uno stato di libertà questo lo stato di natura non è uno stato di licenza benché sia incondizionatamente libero in questo stato di disporre della sua persona e dei suoi beni l'uomo non è libero di distruggere se stesso altra creatura umana che gli appartenga se non quando lo impunga un motivo più nobile della semplice sopravvivenza lo stato naturale è governato da una legge di natura che è per tutti vincolante e la ragione che è poi quella legge stessa insegna a chiunque soltanto voglia interpellarla che essendo tutti gli uomini uguali e indipendenti nessuno deve ledere gli altri nella vita nella salute nella libertà o nei diaveri la legge di natura è una legge vincolante dice locke è una legge vincolante la nostra struttura razionale naturale fa in modo che noi capiamo che non si devono ledere i diritti altrui bene altrui le e le altre volontà se non per meri motivi di sopravvivenza cioè se qualcuno sta provando ad ammazzarmi io per legittima difesa evidentemente mi difenderò e ammazzerò a mia volta prima di venire ammazzato ma in tutti gli altri casi questa legge naturale impone di rispettare la libertà degli altri e di non ledere altre creature se non me ne sia la necessità questa è una legge che vincolante assolutamente per tutti a giudizio di locke e ciascuno può farla rispettare infatti locke lo afferma poco dopo e perché tutti si astengano dall'usurpare gli altrui diritti e dal farsi reciproco torto perché sia rispettata la legge di natura che vuole la pace la sopravvivenza di tutto il genere umano l'esecuzione della legge naturale in quello stato è affidata a ciascuno onde ciascuno ha il diritto di punire chi trasgredisce quella legge nella misura abbastante a scoraggiarne la violazione anche la legge naturale infatti come tutte le altre leggi che riguardano gli uomini in questo mondo sarebbe vana se in quello stato di natura non vi fosse nessuno dotato del potere di renderla esecutiva difendendo così che è senza colpa e reprimendo i trasgressori e se nello stesso stato di natura a uno è dato punire un altro uomo per un male commesso la stessa cosa è data a ciascuno infatti in quello stato di perfetta eguaglianza in cui per natura manca ogni superiorità o autorità d'uno sugli altri ciò che uno può fare per rendere esecutiva quella legge ciascuno ha necessariamente diritto di farlo appunto si diceva proprio perché siamo naturali liberi uguali tutti e ognuno siamo perfettamente liberi in quanto persone in quanto individui di far rispettare questa legge di natura non vi sarà un tribunale non vi sarà un giudice un terzo ciascuno farà rispettare questa legge naturale legge fondamentale che è quella della libertà e di non ledere gli altri perché perché lo stato di natura è uno stato quindi in questo senso pacifico a differenza che no se uno stato in cui l'uomo sopravvive e tuttavia poi vedremo che in realtà in questo c'è una una sorta di contraddizione in loc nel senso che poi se è vero che questo stato di natura è dotato di una legge naturale che vincolante per tutti gli uomini e che tiene in pace è però anche vero che c'è sempre il rischio e che il rischio è sempre dietro l'angolo diciamo così di ricadere poi in uno stato di guerra ed è il motivo per il quale l'uomo trova conveniente poi uno stato politico e una costituzione politica infatti riferendosi chiaramente ad hobs scrive locke ecco qui evidente la differenza tra stato di natura e stato di guerra che taluni hanno confuso e che sono invece tanto lontani l'uno dall'altro quanto uno stato di pace e benevolenza assistenza e difesa reciproca e lontano da uno stato di nemicizia malvagità violenza e reciproco sterminio quando gli uomini vivono insieme secondo ragione senza un sovrano comune sulla terra col potere di giudicarsi fra loro sia allo stato di natura ma la forza o una dichiarata intenzione di usarla sulla persona altrui quando non vi sia sulla terra un comune sovrano che appellarsi significa stato di guerra è proprio la mancanza di tale appello dall'uomo il diritto di guerra contro un aggressore quando anche questo viva nella società di cui anch'io sono membro il diritto di guerra mi dà la libertà di uccidere l'aggressore perché questi non mi dà il tempo di chiedere al giudice comune o all'arbitrato della legge il rimedio laddove il torto può essere irreparabile la mancanza di un giudice comune dotato di autorità pone tutti gli uomini in stato di natura è evidente però che nonostante quello che si è detto sulla legge di natura e sullo stato di natura è preferibile uno stato politico allo stato di natura l'uomo non riesce a resistere all'interno dello stato di natura ed è il motivo per cui noi viviamo in uno stato in una società politica e non siamo ancora nello stato di natura dunque in realtà tra i due è sempre e comunque preferibile anzi è necessario lo stato politico vediamo come lo dice john locke l'intento di evitare questo stato di guerra è il grande motivo per cui gli uomini si associano fra loro e abbandonano lo stato di natura infatti dove c'è un'autorità un potere terreno cui sia possibile appellarsi a riparazione del torto subito non può perpetuarsi lo stato di guerra e ogni controversia è risolta da quell'autorità l'uomo potremmo dire nello stato di natura può vendicarsi dell'altro uomo e far valere il suo diritto naturale alla libertà al suo benessere alla sua salute ai suoi averi è tuttavia uno stato naturale in cui la possibilità di vendetta e di tutti contro tutti in ultima analisi è uno stato che se non è di guerra poco ci manca da questo punto di vista come si diceva allo stato di lo stato di locke lo stato di natura di locke uno stato che è sempre potenzialmente stato di guerra e per questo motivo che è necessario un garante che renda possibile la mia sicurezza e quindi la mia libertà poi l'ultima analisi questa autorità politica è quella che poi andrà appunto ad essere stipulata attraverso il contratto il contratto dirà che c'è un governo che c'è un'autorità e che questa autorità ha il diritto dovere di decidere sulle controverse tra gli uomini un altro dei diritti fondamentali oltre alla libertà è per i liberali e quindi per locke naturalmente il diritto alla proprietà privata ciascuno nel momento in cui prende una mela dall'albero è diventato proprietario di quella mela dice locke ma che cos'è che genera però il diritto alla proprietà privata e quindi a una condizione in cui taluni hanno più di altri evidentemente è il lavoro è il lavoro il valore determinato dal lavoro questo sarà vero per locke e sarà vero anche poi per ricardo per adam smith e in realtà anche per lo stesso marx è il lavoro che determina il valore cosa dice locke a questo proposito dio che ha dato la terra in comune agli uomini ha dato loro anche la ragione onde se ne servissero nel modo più vantaggioso per la vita e il benessere loro la terra e tutto ciò che essa contiene viene data agli uomini per la sussistenza e il piacere di vivere e per quanto tutti i frutti che essa naturalmente produce e gli animali che sostenta appartengano in comune all'umanità essendo prodotti dalla spontanea mano della natura senza che nessuno ne abbia originariamente un privato dominio a esclusione del resto degli uomini essendo tutti nello stato di natura pure dato che tutto ciò è inteso all'utilità degli uomini deve esserci di necessità un mezzo di appropriarselo in un modo o nell'altro prima che posseste un qualche vantaggio beneficio a un singolo individuo il frutto o la preda di cui si nutre il selvaggio indiano che non conosce recinzioni e possiede ancora in comune della terra se deve in qualche modo giovarli per la sussistenza deve appartenervi e appartenervi essere cioè parte di lui in modo che nessun altro possa avere più diritto anche qui il fatto che il creatore perché locke crede in un creatore nonostante la sua sia una religione realtà razionale razionalizzata un cristianesimo di matrice razionale il creatore ha dato frutti della natura e in generale una natura che a disposizione di tutti i uomini tuttavia la disponibilità apparentemente illimitata trova il limite nel fatto che c'è la necessità anche di appropriarsi di questi beni naturali per fare in modo che ciascun singolo possa beneficiarne ed ecco che interviene come si diceva il valore che da che rende legittima la proprietà è il lavoro che conferisce alla terra la maggior parte del suo valore e senza il lavoro essa varrebbe poco o nulla si deve al lavoro la maggior parte dei beni di consumo il valore in più che la paglia la crusca il pane prodotti da un acro di fiume di frumento hanno su quanto nasce da un acro di terra altrettanto buona ma incolta è effetto del lavoro nel valore del pane che mangiamo non bisogna infatti calcolare soltanto la fatica di chiara lo sforzo di chi miete e trebbia o il sudore del fornaio ma anche il lavoro di chi ha abbezzato i buoghi al gioco al gioco di chi ha scavato e lavorato il ferro e le pietre abbattuto gli alberi e ricavato il legname adoperato per l'alatro per il mulino per il forno o fabbricato tutti gli altri utensili e sono moltissimi che quel frumento richiede dal momento in cui viene seminato fino a quello in cui diventa pane tutto questo deve essere messo in conto al lavoro e considerato come effetto di esso mentre la natura e la materna non hanno fornito se non materiali di per se stessi quasi privi di valore ciò che determina il valore il lavoro l'esempio che fa locca è l'esempio più immediato che possiamo avere un pezzo di pane il pezzo di pane che è davanti a noi è frutto della fatica di un fornaio ma anche il frutto di tutti quei lavoratori che hanno reso possibili gli strumenti per fare il pane che hanno prodotto il forno che hanno fatto la mietitura che hanno trebbiato che hanno reso il frumento farina attraverso il lavoro delle proprie mani e del proprio intelletto tutto questo rende un prodotto naturale una cosa data a tutti dalla natura ma che di per sé non ha valore se non attraverso questi sforzi e questo lavoro questo lavoro che nobilita l'uomo come si dice che lo rende anche una creatura dotata di dignità di valore la sua libertà è anche una libertà che nel lavoro nel passaggio dalla dallo stato di natura la società politica scrive nel secondo trattato locke poiché gli uomini come si è detto sono tutti per natura liberi e uguali e indipendenti nessuno può essere tolto da questa condizione assoggettato all'altrui potere politico senza suo consenso un uomo si spoggia della sua libertà naturale e accetta i vincoli della società civile solo quando decide insieme con altri uomini associarsi e unirsi tutti in una comunità per vivere bene nella tranquillità e nella pace reciproca assicurandosi il godimento delle loro proprietà e una maggiore protezione contro coloro che a quella società non appartengono l'uomo decide di mettersi insieme di creare questo contratto e di diventare così finalmente comunità politica questa comunità politica garantisce la sicurezza quindi la vita altro diritto fondamentale dei liberali insieme alla libertà e alla proprietà garantisce anche la difesa della proprietà privata evidentemente la risoluzione delle controversie e si fonda sulla libertà dell'individuo che per i liberali è sacra tutti noi siamo liberi dotati di libertà alla nascita e questo deve essere il sacrosanto valore su cui fondiamo la nostra esistenza ma su che cosa si fonda la comunità politica e quindi che cosa si fonda l'autorità del sovrano o del parlamento si fonda sul fatto che noi le diamo il consenso il consenso popolare della base potremmo dire è fondamentale se non ci fosse un consenso del popolo e della comunità che ha creato le condizioni della comunità la comunità può sempre decidere che quel sovrano deve essere destituito che quel potere politico non vale più questa è un'altra differenza fondamentale con hobs in hobs il patto è un patto rispetto al quale non è possibile tornare indietro perché tornare indietro vorrebbe dire ritornare in bocca al leone ritornare nello stato di natura ritornare in quello stato che nessuno vuole e nessuno mai sogna di poter rivivere perché vorrebbe dire rivivere la morte invece questo stato politico che è uno stato che è frutto del consenso per locke questo consenso può sempre essere negato quindi la possibilità di una rivolta di una rivoluzione contro il potere come avvenuto nell'inghilterra dei tempi di locke è possibile anzi in certi casi è persino doveroso se l'uomo nello stato di natura è così libero come si è detto se è padrone assoluto della propria persona e dei propri beni pari al più grande fra tutti a nessuno soggetto perché mai rinuncia alla sua libertà perché c'è del suo imperio e si assoggetta al dominio al controllo di un altro potere la risposta ovvia è che per quanto nello stato di natura edi possiede il diritto connesso con quello stato la fruizione di esso assai incerta e continuamente esposta all'eltrui interferenze qui locke lo dice senza senza possibilità di di fraintendimenti lo stato politico nasce perché far rispettare i diritti di cui abbiamo parlato nello stato di natura è praticamente impossibile prima o poi lo stato di natura diventerebbe uno stato di guerra nonostante non sia non sia strutturalmente così a differenza che in obs non è strutturalmente così lo stato di natura uno stato pacifico però c'è sempre questa possibilità che l'uomo vuole deve scongiurare di stato di guerra è per questo motivo che l'uomo rinuncia alla propria libertà perché ciascuno rinuncia a quella libertà naturale che in qualche modo è limitata e si sottomette ai vincoli della società ma lo fa con consapevolezza anzi lo fa perché utile perché conveniente perché non può stare in uno stato di natura che potenzialmente lo ammazza ecco che allora l'autorità prende una nuova forza da questo consenso e quindi io rinuncio a parte della mia libertà che la natura mi ha dato per vivere in armonia in libertà e quindi si poter realizzare veramente la mia libertà insieme agli altri uomini che a quel punto non possono più danneggiarmi per i liberali è fondamentale anche quello che viene chiamato nei paesi anglosassoni il sistema del check and balance cioè di pesi e contrappesi e locke la filosofia di locke una filosofia politica molto moderna sembra molto vicino a noi più di quello che pensiamo se consideriamo che è stata scritta che il tra il secondo trattato è stato scritto alla fine del seicento perché perché per esempio il potere è diviso in potere legislativo in potere esecutivo in potere federativo potere legislativo e il potere del parlamento di fare le leggi potere esecutivo naturalmente quella applicazione il potere di far applicare effettivamente queste leggi attraverso lo stato di polizia le istituzioni i tribunali infine il potere federativo è quello che noi chiameremmo il potere in politica estera cioè quello di dichiarare guerra agli altri stati avere rapporti con gli altri stati questi tre poteri sono i poteri che garantiscono un ordine una divisione equilibrata del potere che quindi così facendo non è in mano soltanto a un monarca assoluto come era per esempio carlo primo stewart ma avremo appunto un governo liberale un governo in cui tutte le libertà e la soprattutto individuale sia salvaguardata possiamo quindi dire con tornando alla provocazione che ho fatto in apertura del video che siamo tutti liberali siamo tutti liberali perché per ciascuno di noi la libertà è come l'aria non se ne può fare a meno è come il respiro e quindi tutti vogliamo difendere la nostra libertà la nostra libertà è sacra inviolabile e questo è il grandissimo insegnamento dei liberali che tutti noi dobbiamo sempre tenere presente nella nostra vita e in questo ci aiuta John Locke ma chi è John Locke forse non tutti no ma che cosa forse non tutti sanno che ma che siamo nella settimana enigmistica rivarto